Ciao a tutti amici, in questo video parliamo di cenni su architetture microservizi. Lo scopo di questo video non è essere precisi al 100%, ma è quello di offrirvi una panoramica generale di contesto, perché poi nei prossimi video si andrà sempre più nel dettaglio fino ad arrivare all'implementazione di un microservizio. In questa prima slide andiamo a capire intanto perché ha senso optare per un'architettura basata su microservizi. Bene, lo vediamo subito nella parte di sinistra, dove possiamo vedere una rappresentazione stilizzata di un'architettura monolitica, dove tutti i componenti software sono richiusi in un unico blocco logico, quindi nel rettangolino bianco, mentre in basso invece vediamo concettualmente cosa significa per l'architettura microservizi. In questo caso tutti i componenti software che sono rappresentati da queste formine geometriche sono indipendenti tra loro e chiusi ognuno in un proprio rettangolino bianco. Questo significa che ogni modulo è indipendente rispetto agli altri e comunicherà con gli altri in modi opportuni che vedremo nelle slide successive. Però quali sono i vantaggi di questo approccio? Il primo è che se una delle formine, cioè dei moduli software, si dovesse rompere, questo non compromette il funzionamento di tutti gli altri, come invece avviene nell'architettura monolitica. Allo stesso modo, i sviluppi possono essere eseguiti in modo indipendente, perché lo sviluppo di uno non compromette verosimilmente il funzionamento degli altri moduli, ad esempio. Quindi abbiamo degli sviluppi più rapidi. Inoltre, nel caso volessimo aumentare dinamicamente le performance del nostro sistema, nel primo caso dovremmo copiare tutto lo stack software su un'altra macchina, oppure aumentare le performance della macchina, ad esempio allocando un numero di CPU diverse. Nel caso dell'architettura microservizi, abbiamo il vantaggio che, se abbiamo bisogno, ad esempio, solo del componente a stellina, questo componente può essere replicato n volte, tanto da soddisfare tutte le richieste di quel componente, mentre le performance degli altri moduli software possono restare sostanzialmente uguali. Tra gli svantaggi, invece, dell'adozione di architetture basate sui microservizi, c'è proprio la loro complessità, quindi ha poco senso da adottare per piccole aziende o per software davvero molto semplici. E in più, la complessità di comunicazione fra tutti i vari microservizi è proporzionale al numero di servizi da dover integrare. Quindi andiamo a vedere un po' più concretamente che cos'è un microservizio. Iniziamo a leggere la definizione che ho recuperato dal sito di Red Hat. I microservizi sono un approccio architetturale alla realizzazione di applicazioni. Quello che distingue l'architettura basata su microservizi dagli approcci monolitici tradizionali è la suddivisione dell'app nelle sue funzioni di base. Ciascuna funzione, denominata servizio, può essere compilata e implementata in modo indipendente. Pertanto i singoli servizi possono funzionare o meno senza compromettere gli altri. Nella descrizione del video poi vi fornirò il link completo a questa citazione in modo che possiate approfondire per conto vostro e iniziare tutte le vostre ricerche del caso. Invece nel disegno di questa slide possiamo vedere un esempio di cosa si intende per microservizio, ovvero l'esposizione di una funzionalità atomica. Quindi immaginiamoci dove è rappresentato il computer a sinistra un'applicazione complessa e in questo caso invece noi ci interessa accedere a una micro funzionalità, come ad esempio la traduzione del nickname in nome e cognome, ad esempio. Quindi vediamo che il nickname viaggia attraverso internet, in questo caso, e viene recuperato dal microservizio attraverso solitamente un'interfaccia RESTful. Il microservizio a questo punto, che è stateless per definizione, riceve il nickname e va a interrogare la sua base dati di riferimento. Passa il name, recupera i dettagli dell'utente e a quel punto va a esporre la sua micro funzionalità al client che l'ha chiamato, che quindi potrà, per quel piccolo tassello, andare a mostrare il nome e cognome dell'utente richiesto. In quest'ultima slide invece vi mostro un esempio di architettura, sempre stilizzato, che però rappresenta un'applicazione complessa. Questa architettura qui è divisa in quattro layer. I canali sono sostanzialmente le applicazioni che sono esposte al cliente, quindi potrebbe essere un'applicazione per smartphone, una web application, un'applicazione desktop per il computer, e poi un servizio di business intelligence per chi mette a disposizione il servizio, ad esempio, per avere dei dettagli sui prodotti o sulle vendite. Il secondo layer invece rappresenta i servizi di canale, ovvero sono delle particolari interfacce che mediano le richieste specifiche dal livello superiore, cioè dai canali, con i servizi Cora al di sotto. Questo ha lo scopo di rendere i servizi Cora riutilizzabili sia per future implementazioni, sia per la condivisione anche con altri canali, che magari hanno procedure specifiche. L'architettura viene definita to speed proprio per le differenti velocità tra i servizi di canale e i servizi Cora. Questo nel senso che i servizi Cora, una volta che sono sviluppati e sono consolidati, resteranno molto più stabili nella loro progressione, ed esporranno sostanzialmente sempre le stesse funzionalità. Al contrario, i servizi di canale invece si devono adattare all'evoluzione del contesto utente. Quindi ad esempio se viene aggiunta una schermata nuova sull'app o una procedura nuova, il servizio di canale si dovrà adattare per contattare i nuovi opportuni servizi Cora che verranno sviluppati. Però sostanzialmente il servizio utenti resterà uguale per tutto il ciclo di vita dell'applicazione complessiva. Nei prossimi video andremo ad approfondire ancora meglio questi argomenti, cercheremo di capire come sono realizzati concretamente questi microservizi. Infatti possiamo realizzarli attraverso container, ad esempio Docker, oppure basarci su strumenti cloud totalmente gestiti dal provider, come potrebbe essere una Azure Function o una AWS Lambda, ad esempio. E cercheremo di bilanciare quali sono i pro e i contro di questi approcci. Prima di salutarvi ci tengo a mostrarvi il repository Bitbucket che ho iniziato a pubblicare qualche giorno fa e lo voglio usare come collettore per permettervi di scaricare tutti i codici e tutti i tutorial che andrò a mostrare su questo canale. Così che anche voi possiate magari mandarmi dei feedback e io cercherò di arricchire tutti i codici con tutte le cose che magari non vi sono chiare e do per scontato. Con questo concluso voglio ringraziarvi per avermi seguito fin qui e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!